La montagna è un luogo bellissimo, si viene affrontata con consapevolezza e conoscenza. L'attrezzatura da montagna per me è... Prima cosa è importante appena usciti dalla macchina fare un check di tutto il materiale che dobbiamo portarci. La scarpa da running è una buona scarpa, ma non è adatta a questo terreno. Va a scelta una scarpa con una buona tenuta. Mauro non si preoccupa dei sassi che possono rimbalzare lontani dalla parete. Il casco va indossato prima. Mauro, oltre ad utilizzare la propria testa, ci vuole uscite un particolare. in maniera scorretta, aveva anche un imbrago o un seda ferrata non adeguato. La montagna per me rappresenta la libertà, le non regole, il poter andare libero. Mauro sta usando una progressione sbagliata, mettendosi così in pericolo. Sono sempre andato così e non ho mai avuto problemi neanche di incidenti, sono sempre andato in giro così. Un selfie ci sta, ma fatelo in sicurezza.